E' ancora da... Eccolo! Scusa, ma questo che è un accordatore? A fischiotto, a bocca, a fischiotto. Un accordatore a bocca, da 1930. Ce l'ho visto qui a 40 anni. E' uno degli accordatori che ho preso con una chitarra. E' una cosa che è più verofe. Ah, perché lui ti fa la nota? Sì. Mi dà la nota, sì. Bello. Certo. Sì, certo. La parangela? Sì. 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 Sì.